Posso dire una cosa che mi prenderete per pazzo? Secondo me il post allegri per la Juve, visto come ha giocato e visto come parlate, voi juventini, Pandorino, di una mancanza di gioco, si chiama Eusebio Di Francesco. Portate Eusebio alla Juve e poi ne parliamo. Dategli una squadra così.